Gli introiti della tassa di soggiorno serviranno per offrire servizi gratuiti ai turisti. È l'iniziativa promossa dalla Comune di Ascea. Per la stagione estiva 2017, infatti, i turisti, in regola con il pagamento dell'imposta di soggiorno e che mostreranno la guest card rilasciata dagli operatori alberghieri ed extraalberghieri, potranno usufruire di vari servizi gratuitamente. Si parte con il servizio di trasporto pubblico di linea nell'ambito del territorio comunale. L'integrazione delle linee urbane partirà dal 26 giugno e durerà fino alla 3 settembre. Inoltre, i turisti in regola con il pagamento della tassa di soggiorno potranno usufruire del servizio di trasporto con accompagnatore lungo l'itinerario delle frazioni di Terradura, Catona e Mandia. Questo avverrà in giorni prestabiliti, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Un pullman con accompagnatore guiderà i turisti in un itinerario fatto di natura e gusto alla scoperta delle frazioni interne del territorio comunale. E poi sono ancora altre le novità. Un accompagnatore porterà i visitatori lungo il percorso di trekking denominato il sentiero degli innamorati, località scogliera. Anche in questo caso sono stati stabiliti dei giorni, nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando una guida porterà i turisti lungo il percorso di trekking molto amato. Infine, per il terzo anno consecutivo, ogni mercoledì fino al 21 settembre, archeologi e conservatori dei beni culturali del gruppo archeologico Velino saranno a disposizione per accompagnare, sempre gratuitamente, i turisti all'interno del Parco archeologico di Velia. Il servizio offerto dal comune di Ascea prevede esclusivamente l'accompagnatore e non l'entrata agli scavi.